ciao amici benvenuti e bentornati sul mio canale c'è raffaele che ha paura di essere coperto dalla mia stazza bella gigantesca saluta agli amici qua ciao ragazzi e fra poco ci trovano in diretta allora dobbiamo ringraziare raffa ragazzi lo dico sempre se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale a voi non costa niente per noi invece è molto importante quindi mi raccomando iscrivetevi mettete un po di stila e facciamoli andare questi pollici e oggi dobbiamo qua nell'angolo delle recensioni qui sul mio canale ringraziare il raffa perché a livello collezionistico ha portato due pezzi che sono veramente importanti nel senso hanno assunto un valore veramente altissimo però fondamentalmente i materiali e le qualità purtroppo non sono eccelse anzi sono veramente scadenti però a livello collezionistico sono due pezzi da 90 lo facciamo vedere ossia gli astro robot della linea mass della cms dove qua vediamo i primi due che sono vediamo chi sono che questi due sono no ma giuste vero e vero non me li ricordavo più robocule è cacchiarola non me li ricordavo i nomi esatti devo dire la verità ma c'è scritti e comunque guardate qua veramente bella la cosa particolare che si può fare tutto questo qua anche se materiali sono un po e poi è poco andiamo il protagonista assoluto assoluto che abbiamo anche visto nella versione stupenda invece in sciogokin più che sciogokin in go king tutto in metallo che c'è comunque c'è sempre fatto a fare ci ha sempre fatto cms ecco cms non mi veniva loro due sono linea mass vedete mas come ho già detto sono in plastica purtroppo però è sono veramente carini fatti benino quindi e livello collezionistico altissimo dai unboxiamo li vediamo tutto quello che c'è all'interno e facciamo questa doppia recensione di ben quattro robot i robot i robot i però non so se faremo l'attacco contatto y sa che è difficile ne vedremo comunque delle belle dai ragazzi ragazzi noi siamo pazzi e forse raffaele dovremmo ringraziare lui perché forse dice di fare dopo che abbiamo messi girare tutti bene di fare anche il contatto y allora vediamo in un primo blisterino guardate quante parti abbiamo allora abbiamo sapete che questa è la testa ed è praticamente anche la navicella del robot guardate qua purtroppo i materiali di questi mass non sono un granché vedete questo è di un robot questo è dell'altro robot che però troviamo anche in una doppia versione bravo mai letto nel pensiero raffa vediamolo qua proprio in versione navicella con le ali aperte vedete i reattori dietro la parte sopra veramente carini peccato dei materiali vedete questi sono i piedi uniti che ci serviranno per appunto per fare penso il contatto y che vedremo dopo queste sono le armi queste vedete sono i laccetti di mare tutto poi vediamo le armi anche del boss palder dell'altro per poi vedere bravo per poi vedere anche i pezzi robot si quattro astro robot singolarmente vedete la palla chiudata questa è il paella nucleare bravo la mazza ferrata nucleare bravo raffa questa è la pasta dei missili debbo spalder quando prima il petto e lanciava i missili poi vedete qua abbiamo le lanci cavolo una qua si è rotta è una serrotta raffa guarda vedete i materiali adesso stavo vedendo una serrotta vedete qua perché questa va attaccata qua si aggancia all'altra parte per renderla anche unita ragazzi purtroppo i mass è un materiale farlocco lui purtroppo ha fatto un errore alla lasciata non umidità ho visto tutta la scatola a cartocciata deve avere preso anche qualche botto e vedete purtroppo il collezionismo ragazzi così comunque queste quando facciamo la parte il contatto y sono sole le parti dove si agganciano con l'altra queste sono le mani allora andiamo adesso a vedere per bene 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 allora il robot singolarmente scusateci eccoci quale abbiamo presi tutti perché si erano incastrati nella scatola eccoli qua tutti e quattro gli astro robot belli 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 ragazzi da vedere in vetrina belli peccato che questa linea mass i materiali non sono buoni allora partiamo dall'astro robot numero uno vedete praticamente i mass lasciano tutte queste imperfezioni era una linea lui si chiamava bravo era una linea praticamente di cms tra virgolette economica quindi vedete presentava molto visibili tutti gli snodi in plastica tant'è vero che questi all'uscita costavano poco però adesso a livello collezionistico hanno preso un prezzo mica male allora questo è l'astro robot numero uno poi passiamo al 2 che vedete presentavano sempre molto evidenti bull kaiser bravo ragazzi non mi ci metto con le pronunce perché vedete presentavano molto evidenti le parti di aggancio vedete qua si stava staccando il 2 ne sono accorto vedete molto evidente purtroppo non hanno niente indie cast sono belli così vedete a vederli ma è tutta plastica questa linea quattro nel boss padre cms che abbiamo raggiare c'è il sito ecco si è staccata la testa che come ricordo in tutti gli astro robot le teste vedete sono le astronavi vedete in questo caso anche qua vedete va incastrata con questa linguetta qua così vedete purtroppo il materiale il materiale è quello che vedete vedete ma era bello perché aveva anche queste punte come potete vedere se i pugni vedete per esempio questa parte questa gamba gli si è staccata prima è molto morbida il materiale è proprio quello che è ragazzi purtroppo adesso vedete boss palder vi consiglio comunque di fare il set se lo trovate a buon prezzo io tanto non lo spenderei però da questo boss palder alla linea gocchini in metallo che abbiamo già recensito andate a vedere sul canale c'è tantissima differenza magari ammetto la fine anche il link comunque lui boss palder anche in questa versione mass forse è quello riuscito più carino quindi per assurdo vediamo se sta in piedi almeno se almeno lui sta in piedi dai ma allora vediamoli girare velocemente tutti e quattro una fianca all'altro magari con qualche arma e poi se raffa vorrà proviamo il contatto y abbiamo voluto farvi vedere una cosa raffa cosa gli abbiamo voluto far vedere ai nostri amici che praticamente ci sono le doppie teste per i primi due esatto vedete siccome i primi due avevano la parte praticamente complessa era già incastrata all'interno cms cosa ha fatto ha detto se vogliono avere comunque tutte le quattro le navicelle sul loro due facciamo la navicella aggiuntiva invece sul boss palder il sandaio che vabbè praticamente cosa facciamo gli mettiamo le due teste perché perché sono trasformabili vedete questa parte qua viene in su così e diventa la testa del boss palder il discorso è questo che è delicato delicato il materiale purtroppo è pessimo e io in questa situazione qua avrei fatto tutte quattro le navicelle perché mi sembra uno stiata due hanno praticamente la navicella la a parte perché hanno già le teste due le navicelle si trasformano dovevano avere anche loro due e tre e quattro le navicelle secondo me no ma a questo punto la meno contrario no a tu dici che loro si trasformavano anche queste qua e quindi tutti avevano una testa unica è una cosa un po strana dai rimettiamogli le teste un secondino veloce noti se no aspetta rimettiamo le teste e dicevi guardate ragazzi gli abbiamo messo per velocizzare le teste tutte così abbiamo tutte le navicelle se noti la la navicelle del cari del bull kaiser è già trasformabile il suo la seconda prendi un attimino no 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 esatto sì che hanno fatto la parte qua che non è vero esatto le ali che si chiudono al contrario veramente sono a no sono in avanti ma è vero esatto in avanti se vedete vedete se bastavano fare un piccolo come posso dire un aggancio per il bull kaiser è direttamente la testa del nostro robot e allora loro a vederli così da lontano diciamo in vetrina sono carini ragazzi dobbiamo veramente se abbiamo questi doppio set qua metterli lì e non toccarli più sono di una delicatezza incredibile perché è una plastica anche secondo me di bassa qualità e quindi sono veramente delicatissime vedete le bisogna spostarle un po anche per farli tenere l'equilibrio perché sono molto molto delicata nella mia c'è il pezzo di lancia che dice era vero perché mi sono ricordato che già in priori questo qua aveva questo pezzettino qua perché abbiamo visto la scatola tutta ammassata rotta invece questo pezzo si era rotto in principio perché veramente i materiali si staccano tutti sono materiali veramente di bassa qualità ma molto è vero tu cosa vuoi fare vuoi provare a fare il contatto y è complicato io posso anche provarci ma se non si staccano le mani sono dolori allora ragazzi proviamo a vedere se riusciamo a fare il contatto y prima 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 però di vederli come abbiamo pensato col contatto y ragazzi gli armiamo un po singolarmente singolarmente guardate gli abbiamo messo qualche armettina e non sono niente niente male purtroppo questi materiali sono veramente veramente farlochissimi però loro nel complesso tutto sommato poi vedete in vetrina anche se con materiali scrausi però fanno la loro bella figura vedete armati fino ai denti perché era giusto prima di vedere il contatto y di armarli fino ai denti farvi vedere qualche loro arma raffa fa una faccia stranissima perché non è convinto vabbè come promesso da andiamo a vedere se riusciamo a farli fare sto contatto y o andremo a vedere la conclusione di questa recensione chissà ragazzi come abbiamo accennato prima come andrà a finire si è conclusa questa recensione nel peggior dei modi possibili ragazzi allora cosa vi dicevamo all'inizio della recensione che i materiali erano veramente farlocchi non ci crederete mai praticamente andiamo a staccare un pugno vedete praticamente andiamo a staccare il pugno per fare il contatto y si spacca la gomma interna non c'è stato niente da fare l'abbiamo dovuto incollare cosa più assurda nel mentre si stacca il pezzettino di plastica vedete qua all'interno del nastro robo verde che è questo pezzettino ecco addio di plastica qua vedete che adesso abbiamo messo un pezzettino gli abbiamo messo un pochettino di colla e stiamo sperando che prenda la colla almeno per rinfilargli il numero e andarlo a rimontare vedete delusione al massimo specialmente anche per il raffa che aveva pagati non a prezzo pieno aveva pagati comunque cari perché comunque questo qua aveva dei difetti comunque sia qua a un braccio perché aveva questa lancia c'eravamo dimenticata era già rotta in precedenza però essendo stati anche un po trascurati i materiali sono veramente pessimi ma anche se li trovate a buon prezzo io non posso consigliarveli perché ragazzi veramente immate allora loro sono da mettere in vetrina e non toccarli più sono belli a vederli a distanza ma non li possiamo muovere mettere troppo accessori fare tante cose perché ci rimangono i pezzi in mano anche perché sono dieci anni che sono usciti si vede che la plastica era già scadente e con questo passare degli anni è diventata ancora più scadente e rischiano veramente le parti di rimanerci in mano mentre gli andiamo a mettere un'ascia un accessorio veramente una mano una mano purtroppo veramente i materiali non sono ottimali anzi purtroppo quindi giunge qua con tanto rammarico perché avremmo voluto far rivedere il contatto y altre cose ma è infattibile perché si spaccano i pezzi quando lo proviamo a fare quindi con tanto rammarico concludiamo questa consiglia recensione consigliandolo solo proprio ai veri amanti degli astroroboi che lo trovano a un prezzo dignitoso perché sono dei modelli che presentano veramente tanti difetti tanti difetti e tanti problemi soprattutto materiali veramente scadenti se vi è piaciuta la recensione pollice alzato bravo attivate la campanellina per seguirmi sempre che vi arrivano la notifica ma soprattutto voi non costa niente noi ci fa felici ed è veramente importante iscrivetevi al canale noi piangiamo per questi alzato robot che potevano essere qualcosa di veramente bello e invece il materiale estremamente scadente gli ha resi un po la ciofeca ciao ciao alla prossima decisione sono andati e purtroppo è questo è una scicchifezza ciao